Buonasera a tutti, sono felicissima di essere qui, ringrazio innanzitutto a Chico, a Itall per avermi di nuovo coinvolta e coinvolta a me, coinvolta a Clio. Abbiamo un video di Clio e voglio anche ringraziare gli speaker che mi hanno preceduto su questo palco. Ora, doppio fulvio è dura, nel senso che ci provo, però mi ha veramente colpito lo slancio con cui ha parlato di calore e di amore, anche qui non ci siamo preparati, però io credo che una delle diciamo caratteristiche che rendono Clio unica e ripetibile nel panorama mediatico dei new media nostrani è probabilmente e proprio questo amore, questa passione, questo calore che nonostante lo schermo del digitale, lei riesce a trasmettere all'utenza, alla persona che la seguono. Ciao al team di italk, a Chico e ai partecipanti di Comunicare senza intermediari, io ed Elena siamo felicissime e onorate di essere qui con voi stasera per raccontarvi un po' di più della realtà di Clio Makeup e di come da dieci anni a questa parte la disintermediazione sia uno dei pilastri fondamentali della nostra realtà, dalla parte editoriale alla parte della produzione cosmetica, ma non voglio svelarvi altro perché lì con voi c'è Elena, CEO di Clio Makeup che vi racconterà tutto. Un becione! Ecco la nostra Clio, sempre radiosa, sempre diretta e diciamo questa è la sua prossemica, questo è il modo con cui lei ha comunicato in maniera spontanea fin dall'inizio e quella è un po' il suo inquadratura signature dei suoi primi video, per prima lei su YouTube ha incominciato, per chi non la conoscesse, a caricare dei contenuti con una linea editoriale. Quando YouTube era cani sullo skateboard, Clio aveva, anche se in maniera aprogrammatica, un'idea e voleva sostanzialmente svelare i segreti del make-up e soprattutto le tecniche del make-up a persone della community, cioè persone coinvolte, interessate al medesimo argomento di cui lei è attualmente ancora molto appassionata, cioè il make-up. Da YouTube lei parte e sostanzialmente in maniera molto veloce presidia in maniera molto solida tutti i social, le piattaforme digitali, Facebook, Instagram e si rende conto e ci rendiamo conto, incomincio a parlare già al plurale perché poi io l'accompagno fin dall'inizio insieme a Claudio, suo marito, in questa avventura ci rendiamo subito conto che appunto il contenuto pubblicato online non necessariamente passa soltanto dai social, può passare anche da una piattaforma proprietaria, il nostro blog, e fondamentalmente incominciamo a investire molto nel contenuto, non soltanto audiovisivo ma anche testuale. I nostri numeri Clio su Instagram è seguito da 2.5 milioni di persone, 2.4 milioni su Facebook, il nostro blog che noi ancora romanticamente chiamiamo blog ma che di fatto è un magazine a tutti gli effetti che si conta 20 milioni di pagine viste mese e 3 milioni di 21 cinesi e fondamentalmente questo ecosistema digitale integrato costituisce il core di una dinamica che fin dall'inizio in maniera comunque aprogrammatica e inconsapevole inizialmente è stato un impianto di disintermediazione, qui io lancio una sfida e anzi cito insomma quello che mi è piaciuto molto dell'intervento della speaker che mi ha preceduto. Allora noi ci troviamo di fronte un po' a un paradosso, una sfida, cioè stiamo parlando di media, new media, e nello stesso momento parliamo di disintermediazione quando poi di fatto il medium è l'intermediatore per eccellenza. Allora forse ci troviamo di fronte a una evoluzione dell'intermediazione. È sicuramente sfidante riflettere in questo senso. Quello che mi piace pensare è che la comunicazione, il concetto di comunicazione al suo interno contiene l'idea di azione e quindi in Clio Makeup noi abbiamo sempre cercato di valorizzare l'azione o comunque l'informazione abilitante che porta il soggetto a compiere un'azione. Quindi Clio parla di un prodotto cosmetico per permettere alla persona di essere meglio informata e decidersi alla fine se vuole o non vuole comprare un prodotto, che può essere anche oggi il nostro prodotto. Questo valore abilitante è sicuramente un elemento quasi magico. Infatti a me piace ricordare che noi siamo, diciamo, io sono andata, insomma, sono novecentesca perché ancora nel 1977 però se noi pensiamo alla borghesia dell'Ottocento, pensava al medium. E che cos'era il medium? Se pensiamo, non so, alla borghesia del Torino dell'Ottocento. Il medium era quella persona che parlava con i defunti. E questo è un elemento che sicuramente non ci arriva nell'immediato, ma rimane nel suo strato e dona al digitale, cioè a questo, diciamo, al new media, questa idea, questo fascino quasi magico, perché di fatto in qualche modo una magia compie. Nel nostro caso questa magia si sostanzia non soltanto con, diciamo, il consolidamento della nostra azione come Clio Makeup, come editore. Clio parte come persona in maniera, grazie al digitale, in maniera quasi magica, supera la distanza tra persona e brand. E ha questo nuovo ibrido che ha il calore della persona, ma poi ha anche un po' quella neutralità o comunque quella autorevolezza che può avere un brand. Ma questa autorevolezza, il brand ce l'ha esclusivamente perché Clio ha sempre negli anni rispettato il principio di verità, di autenticità. Quindi la forza di Clio Makeup è perché noi, diciamo, in maniera spontanea e forse guidati da un'etica, insomma, da una bussola valoreale, spero solida, insomma, i risultati si vedono, abbiamo molto creduto in quello che dicevi tu. Cioè il fatto che il valore vero della comunicazione è quello di generare, la comunicazione deve essere generativa, deve essere abilitante. A me non piace il concetto di influencer. Perché? Perché noi pensiamo, quando pensiamo all'influencer, a me viene in mente un'idea di comunicazione manipolativa. E questo, infatti, Clio, e io non ammetto tanto questa percezione di Clio come influencer, perché Clio non è un influencer. A me piace più che altro pensare a Clio come, diciamo, engager. E infatti vorrei parlare di più di questo engager, cioè di persone che danno uno spunto di contenuto, di tecnica creativo, artistico, e abilitano con questo spunto le persone a fare qualcosa. Arrivando al settore in cui poi noi ci siamo cimentati lato prodotto, quindi abbiamo fatto il grande salto, siamo passati dall'editoria addirittura a mettere sul mercato una linea di prodotti a marchio proprietario Clio Makeup, che sta avendo un grande successo, che supera quasi le nostre aspettative. E questo perché noi abbiamo in qualche modo, diciamo, lanciato in Italia questa, nell'ambito cosmetico, quest'idea del direct to consumer, cioè abbiamo capitalizzato molto la relazione, conosciamo bene, benissimo la nostra utenza, addirittura si genera un circolo virtuoso, per cui è l'utenza che in qualche modo, attraverso il nostro ascolto, nei confronti della centralità della voce dell'utenza stessa, ci suggerisce quali prodotti, come realizzarli. Quindi Clio ha appunto questa capacità di visione, ma anche di grande ascolto. In questo senso, infatti, ha da sempre appuntato mentalmente, non soltanto le formule che testava giorno dopo giorno, ma l'esigenza community. In questo senso Clio conosce, Clio Makeup conosce le esigenze dell'utenza, del potenziale consumatore, e noi cerchiamo di produrre prodotti non tanto guidati dalle tempistiche del vecchio marketing, determinate per esempio dalla volontà o dalle esigenze del distributore. Noi, su un prodotto, ci possiamo rimanere anche quattro anni, è vero, l'abbiamo fatto con il nostro mascara che è costantemente sold out e non siamo usciti, fin quando il nostro mascara era consumer proof, cioè aveva tutti i tick che mentalmente Clio aveva appuntato e che erano sostanzialmente le esigenze che nel tempo risultavano emergere come più preponderanti nella visione e nelle esigenze e nei desideri del consumatore. Direct to consumer significa quindi avere delle tempistiche libere, significa capitalizzare sulla relazione, significa che il consumatore è al centro, l'utente è al centro. In questo senso a me piace pensare, lancierei questa, è un po' ambizioso, però vorrei lanciare un po' questi messaggi forti anche perché appunto credo molto che le parole sono importanti, come diceva appunto Moretti, questo nuovo umanesimo digitale, cioè la persona al centro, noi lo stiamo facendo e funziona bene. Quindi non abbiamo all'interno della nostra azienda un pressing determinato da quelle che sono le vicende del mercato, ma noi siamo sostanzialmente al centro, insieme a Clio, di percorsi di ascolto attivo dove la persona è al centro, la persona di Clio con il suo calore al centro, non solo, ma tutti i singoli membri della community. In questo senso i media certo disintermediano, soprattutto internet e il digitale, perché io posso parlare direttamente, Instagram Direct, noi ieri siamo andati in sold out dopo pochissimi minuti e le persone hanno incominciato a scrivermi dicendo quando tornano, ecco cosa c'è di più diciamo diretto, di un messaggio dal consumatore al produttore e questo è reso possibile dalla tecnologia. Attraverso internet, attraverso diciamo le piattaforme digitali, noi ascoltiamo attivamente, Clio fondamentalmente raccoglie questo depositato e lo traduce in prodotto. In questo senso il prodotto si cogenera con l'utenza e quindi è ancora più diciamo forte il concetto di direct to consumer. Quindi attraverso l'e-commerce il contenuto fa dal traino, genera awareness, l'awareness porta sul sito, però secondo noi non finisce qui e quindi di nuovo torniamo alla dimensione esperienziale. Non crediamo in Clio Makeup nel diciamo Iato, nella distanza, nella dicotomia tra reale e digitale, crediamo invece che la realtà sia diciamo un unicum di questi due elementi che si compenetrano, si interagiscono tra loro e quindi stiamo attivamente, nonostante il fatto che abbiamo appunto questo approccio diretto senza intermediari con il consumatore finale, attraverso internet comunque crediamo molto nell'esperienza. Da qui nascono i nostri pop-up, sono dei temporary store che permettono all'utente di vivere l'universo Clio Makeup che in maniera così insomma veloce e sintetica ho cercato di descrivervi in maniera diretta, personale e ricca spero di emozioni. Grazie guten a tutti.